Musica Al via ufficialmente all'estate 2019, nel secondo weekend di giugno la temperatura che segna il termometro nella nostra zona flegrea si attesta intorno ai 28 gradi. Insomma, senza perdere tempo bisogna correre al mare. Un clima abbastanza foso ha salutato tutti gli avventori delle spiagge e del lungomare tra Bacoli, Miseno e Miliscola. Per la giornata odierna i liti iniziano a riempirsi dei pendolari del mare, che non vedevano l'ora di popolare le spiagge locali. Per oggi sabato 8 giugno non si segnala il solito pienone del periodo, però di certo possiamo dire che oramai l'estate è iniziata, in attesa dell'ingresso ufficiale della bella stagione segnato come al solito dal sostizio. Grazie per la visione!